Faremo una squadra ben attrezzata, una squadra speriamo di vertice, quindi vorremmo portare a Vibo giocatori importanti di A2, abbiamo avuto diverse offerte da parte di giocatori, si sono offerti parecchi giocatori di A1, a Vibo veniamo anche in A2 e questo è un punto di orgoglio per me Presidente, per tutti i dirigenti, ma soprattutto per la città di Vibo Valencia e per tutti i tifosi, cioè ragazzi che potrebbero giocare in A1 e noi sapendo il programma che avete, sapendo un progetto molto interessante, noi quest'anno giocheremmo in A2 e questa è una cosa di grande soddisfazione per la città. Presidente ha tentato però di portare a Vibo il femminile, quindi traslocare nel femminile e di trasformare la Callipo in gonnella. Sì, dopo vent'anni di maschile volevamo portare appunto questa A2 femminile, abbiamo trattato con alcuni club che volevano cedere il titolo però poi o non sono stati decisi o pensano ancora di trovare qualche sponsor e riuscire a farla. Io non ho avuto la pazienza di aspettare anche perché dobbiamo organizzarci con la squadra, molti giocatori chiamano che vogliono sapere qualche notizia e quindi ieri sera proprio verso le 20 ho preso la decisione, ho fatto l'opzione con la Power Milano, quella società alla quale noi abbiamo ceduto il titolo di A1. Sono della gente meravigliosa, gente che se andiamo a Calabresi che andranno lì li ospiteranno ovviamente con degli accrediti gratuiti, veramente abbiamo trovato delle persone squisite.